Mi chiede dal direttore del Censis, voi prendete i dati dell'Istat, non è che ve li inventate voi, e li elaborate. Io penso che queste siano le elaborazioni dei dati del Censis, suoi, sui furti in abitazione. Glieli leggo io e poi lei me li commenta, perché in realtà si fanno sempre i riferimenti da un anno all'altro. Mentre nel Censis si è preso la premura di controllare tra il 2005 e il 2015, cioè in dieci anni, i furti in abitazione. Sono aumentati del 95%, cioè in questo caso, in un decennio, c'è stata un'esplosione di furti. Sì, questi sono i dati ufficiali del Ministero dell'Interno. Nell'arco dell'ultimo decennio sono praticamente raddoppiati i furti in abitazione. E hanno avuto una dinamica analoga anche le rapine nell'abitazione, che è un crimine che desta ancora più all'arma sociale, perché significa anche minaccia o violenza nei confronti delle persone. Quindi c'è un lungo trend di incremento di questo tipo di reati predatori che sollevano molta paura e insicurezza sociale. C'è un fondamento. Perché cosa è successo in questi ultimi dieci anni? Mi lasci dire. Intanto vorrei dire, sarebbe veramente un errore fatale quello di liquidare la questione, ad esempio, della sicurezza, dicendo che si tratta di populismo. Perché in realtà dietro ci sono delle paure profonde che agitano il corpo sociale e che quindi vanno prese sul serio. È l'inconscio collettivo, cioè ci dice cosa succede veramente nella società. Noi abbiamo avuto in questi ultimi dieci anni un primo grande ciclo di paura legato alla crisi economica. Quindi dal 2008 in poi, la grande crisi, tutti i timori erano catalizzati intorno a questioni economiche, disoccupazione, andamento dei prezzi, quando poi abbiamo cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel è venuta questa grande onda montante di paura per l'incolumità personale di cui stiamo parlando. Perché nel frattempo era scomparsa dai radar, diciamo così, della politica la questione sicurezza che pure ricorderà era stata al centro di tante campagne elettorali, catalizzata l'attenzione dalla questione economica in realtà sotto traccia succedeva che aumentavano i cittadini. Voi considerate che questi numeri significano un furto in abitazione ogni due minuti? Cioè significano... Un furto in abitazione ogni due minuti? Sì, 27 furti in uno significa che alla fine della trasmissione di Matrix una cinquantina di furti in appartamento saranno avvenuti. Dopo quindi questa reazione, cosa ha suscitato questo fenomeno? Come reazione? Il fatto che si è percepito una privatizzazione del rischio, perché lo ricordavo Luizella Costamagna si percepisce anche una certa impotenza dello Stato. Allora se c'è una privatizzazione del rischio c'è anche una privatizzazione delle risposte al rischio. Ecco perché oggi un quarto degli italiani è favorevole a una revisione della legislazione a proposito del possesso e dell'uso di armi da fuoco per la legittimazione. La mette bene, perché la privatizzazione del rischio, la privatizzazione... Salvini se la rivenda questa cosa della privatizzazione, che non le piacciono le privatizzazioni, ma in realtà non è male l'idea che... Però posso chiedermi una cosa, perché io ho visto degli altri dati, io capisco, su dieci anni c'è stata la crisi economica, quindi una crescita del 95% della rapina in abitazione, però il Biminale ha dato anche degli ultimi dati. Nel 2016, rispetto agli anni precedenti, si registra un calo. Vediamo, abbiamo tutto, Costa Magna, non ci manca nulla. Ah, vedete, siete bravissimi. 1.573.000 nel 2014, nel 2015 1.463.000. Quindi, voglio dire, visto che poi il Ministero dell'Interno dice che i reati in realtà sono in calo, soprattutto quelli predatori, rapine in casi, in abitazione, nei bar, nei negozi... E' vero, nell'ultimo anno si registra una riduzione dei furti e delle rapine nelle abitazioni. Se poi si guardano bene i dati, si vede come questo dato di riduzione va in parallelo con il decollo della spesa delle famiglie per... Per sorveglianza. Strumenti di anti-intrusione. Veramente? Cioè, si spende di più per anti-intrusione. Salvini... No, ma... Sì, prego, no, no, è importante. Non voglio dire che ci siano delle defaianze da parte delle forze dell'ordine. Voglio dire che c'è una percezione di dare una risposta al problema della sicurezza che affianchi a quella della vigilanza e del controllo pubblico una gamba privata. Però io voglio chiedere una cosa a Salvini. Grazie mille.